Devo premettere che il lavoro portuale per me, benché si è entrato in porto nel 76, in una società che allora svolgeva lavori ausiliari, quindi recupero, fardaggio, cucitura di sacchi, pulizia delle stive, copertura dei vagoni, non era una novità perché mio padre, mio zio, i miei zii lavoravano già all'interno del porto. Il porto io lo visitavo in barca con mio padre, già da piccolino, quindi non era una novità. Quindi sono entrato nel 76 e ho iniziato come lavoratore occasionale appunto in queste cooperative. Queste cooperative che poi dopo lunghe battaglie del sindacato e anche della loro dirigenza della compagnia, che ha dovuto chiedere il permesso, ha fatto un'assemblea, siamo stati assorbiti noi e il nostro lavoro all'interno della compagnia portuale. Quindi ho fatto l'avventizio dall'81 all'83 e all'83 sono un passato socio. Il lavoro veniva svolto in squadre, eravamo molto coesi tutti insieme. Le squadre erano composte da 4, 8, 10 persone che tutti i giorni lavoravano assieme e quindi si aiutavano e socializzavano, parlavano durante il lavoro dei loro fatti quotidiani. Questo è stato sempre quello, non era un lavoro assolutamente noioso, tutti i giorni si cambiava e tutti i giorni eri sempre con le stesse persone e c'era una socialità e un mutuo soccorso tra gli uomini della squadra che era qualcosa di indescrivibile, veramente. Perché se qualcuno, come succede, aveva dei problemi di salute, gli altri si caricavano sulle spalle il suo, ovviamente se non era uno che ci marciava, perché poi abbiamo avuto dei casi, una persona è mancata quattro volte la nonna forse, quindi doveva andare al funerale, invece che venire a lavorare. Prima di lavorare in Porto ho lavorato anche in sottoprivati, facevo il meccanico, portavo le medicine in giro, però questa è stata un'esperienza veramente gratificante. Lavoravo all'interno della compagnia portuale proprio per il mondo in cui si è creato, il modo e la vita che ho vissuto all'interno della compagnia portuale fino al 2009 quando non sono andato in pensione. Sicuramente il lavoro all'interno del porto, all'interno della compagnia portuale è sempre stato giudicato un privilegio da parte dei cittadini e mi ramarica il fatto che è stato avvio nel 2009 e questa mentalità purtroppo non è cambiata. Nonostante abbiamo fatto di tutto per integrarci nella città, non è cambiata, il lavoratore portuale era sempre visto come la persona che negli anni 60 lavorava, guadagnava tanto, lavorava poco e secondo me è difficile, come tutte le cose che sono dentro, cambiare nel dianale persone, nonostante il porto abbia fatto tanto per la città perché non dimentichiamoci che ha concesso degli spazi il porto, la città, il terminale crociere, tutti gli spazi fronte mare erano del porto, erano sotto il demagno portuale, marittimo portuale, adesso sono dalla città, sono risentuiti alla città e la città trova giocamento da questo. Poco prima di passare al socio mi ricordo che c'è stato con il grande sciopolo del 1983 che addirittura era durato parecchi giorni, avevamo messo dei contenitori di traverso al porto e nel porto non entrava e non usciva più nessuno e c'era molta solidarietà tra i lavoratori e anche i lavoratori, diciamo camionisti o gente dell'indotto che lavorava all'interno del porto. Mi ricordo che passavamo le notti dentro questi contenitori, facevamo i turni e si lavorava esclusivamente alla fornicoque perché era un impianto speciale, quindi mi sono accorto subito delle tensioni sociali che si stavano comunque in asprendo in quel momento per le varie leggi. Il sindacato è riuscito a far valere i propri diritti, poi piano piano è iniziato quella fase del prepensionamento o l'esodo, che dire si voglia, che è stata un po' la rovina dei lavoratori portuali perché poi hanno in mente solo quello. Ma noi abbiamo avuto la fortuna, a meno, io nella mia vita lavorativa ho avuto la fortuna di rapportarmi con una dirigenza della compagnia portuale che è sempre stata anni luce più avanti di tutti gli altri. Prima le macchine erano tutte dall'autorità portuale, con dei mezzi meccanici. La dirigenza di allora mi sembra sotto Sandro Nofroni, a costituire una società con l'ente autonome del porto di Savona. per gestire tutti i mezzi che servivano al lavoro. Quindi questa società, oltre che avviare i mezzi che venivano guidati dalla compagnia portuale, investiva nei mezzi quelli che servivano. Quindi si è pian piano evoluta la società che è finita nel 1995, non per nostra volontà ma perché la legge 84-94 ha privato l'autorità portuale di questa possibilità. Quindi noi ci siamo accorti immediatamente che la macchina era un sostituto dell'uomo ma noi dovevamo diventare parte integrante e dominare questo processo o perlomeno cavalcarlo. Il porto è cambiato tantissimo, è cambiata le leggi che lo regolano perché il porto una volta è regolato dal codice della navigazione. Nel 1994 è cambiato, ci ha imposto di cambiare tante cose e soprattutto una lunga fase non gestita da me ma comunque vissuta è stata la decisione cosa fare, se diventare società cooperativa nella trasformazione o impresa. Mi ricordo che abbiamo fatto tantissime assemblee, allora il console era Sandro Nofroni e tantissime assemblee per decidere cosa fare e c'era chi voleva fare una cosa, chi voleva fare l'altra, è stata forse la più grande decisione che abbiamo preso in quel momento e il gruppo dirigente da allora spingeva per far diventare società cooperativa, cosa che poi è passata in assemblea maggioranza di voti. È stata una cosa positiva perché poi nel proseguo delle attività tutte quelle società, tutte quelle compagnie portuali che si erano trasformate in società, imprese, SRL o via dicendo sono miseramente fallite quelle esperienze perché poi comunque le quote rimanevano intestate al singolo, il singolo poi diventava detentore, andava in pensione, gli obiettivi che si trovavano non erano più gli stessi perché il proprietario dell'azionista vuole dei risultati, il lavoratore vuole lavorare e vuole la busta paga, quindi non c'erano più obiettivi che convergevano e quindi sono fallite misuramente, avevi di Spezia, avevi di Cagliari, poi proseguo perché insomma ne ho viste parecchie. Per quanto riguarda i processi che si instauravano all'interno della compagnia, il processo che mi è sempre piaciuto di più è questa grande coesione che c'era nel bene e nel male tra i soci lavoratori, ma nel passato era molto marcato perché si viveva più tempo a contatto con la compagnia, si viveva di più perché magari si andava in chiamata alle otto, alle due, alle quattro, se non c'era niente si fermava all'interno e si discuteva di tutto, si poteva discutere di tutto anche di pallone, se non della busta paga o del lavoro o di politica sicuramente e quindi era molto più, si instaurava un rapporto sì di discussione ma comunque di fratellanza, non lo so, cioè di rispetto verso le persone perché si rispettavano molto di più, adesso il tempo in cui si passa insieme è pochissimo, le squadre sono ormai ridotte a due, tre persone, magari prima che vai a lavorare con un altro passano 15 giorni e poi non so, trovo che attualmente ci sia più egoismo personale, ecco non so, forse figlio del tempo in cui viviamo.